Nuova legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale del Molise. Si riuscirà a farla? In previsione del voto a marzo i tempi cominciano ad essere serrati. Il varo dovrà avvenire entro dicembre. Questa la deadline. Intanto stamane il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno ha ricevuto una delegazione delle forze politiche rappresentative del territorio della provincia di Isernia. La richiesta bipartisan, quella del doppio collegio e della garanzia di un numero di consiglieri 6, espressione della provincia Pentra. Lavoreremo per fare sintesi, fermo restando la legittima aspettativa della provincia di Isernia e dei rappresentanti che ho ricevuto questa mattina che si sentono penalizzati da un eventuale collegio unico e si auspicano e chiedono la disponibilità del doppio collegio con una quota di 6 consiglieri. Ma diciamo che in punto di principio il consigliere regionale deve essere consigliere regionale dell'intera regione. Quindi il collegio non deve essere il collegio elettorale ma deve essere l'intera rappresentanza territoriale dell'intera regione. Però è chiaro che probabilmente i consiglieri uscenti sono leggermente avvantaggiati da questa eventuale ipotesi di legge elettorale e quindi la provincia di Isernia potrebbe diventare penalizzata. Va da sé che questa è una proposta come abbiamo anche puntualizzato questa mattina che laddove fosse fatta all'inizio della legislatura credo che sia la migliore, quella di un collegio unico perché il consigliere regionale deve rappresentare l'intera regione e non solo il suo bacino. Però è chiaro che le aspettative sono tante, tutte legittime, ognuna viene espressa per quello che ritiene più corretto e più giusto per la rappresentatività del proprio territorio così come quelle del basso Molise che addirittura vedrebbero addirittura tre collegi e non il collegio unico. Però è un discorso che noi dobbiamo assolutamente affrontare e quindi ci auguriamo che prima della pausa invernale questa legge elettorale possa essere varata in consiglio.